Il dribbling poi chiude bene, Corso Cavrai torna, velo ottimo qui da parte di Verre ancora, grande prova anche del numero 10, salito tantissimo in questo secondo tempo. Bene la Roma, Carboni prova a salire il tacco per Florenzi, ancora il capitano frascatore, anche Viviani in seconda battuta, allora deve tornare indietro, il tocco Gelinski, ancora l'ungherese, prova ad andarsene, si tratta di Chirillo, ora Gelinski il destro dalla distanza dell'ungherese. Il piede Viviani, mette però in moto Gelinski, ancora l'ungherese, scambia con il numero 13, Fassari, su di lui Politano, bravo anche in fase difensiva, pronto a ripiegare, ci vado anche i complimenti da parte di Gelinski, ancora Regina con Gelinski, l'ungherese vuole la rimessa con le mani direttamente in area di rigore, chiamato tutti i suoi compagni in avanti, Piascelli con i pugni e poi ancora... Grazie a tutti.